Vediamo il libro che ci consiglia Marcello Veziani, sentiamo, buona giornata. Che nome dare al nostro tempo? La domanda resta senza risposta, il nostro presente è ignoto. L'innominabile attuale lo definisce Roberto Calasso nel suo saggio ora ristampato da Adelphi che comincia col terrorismo islamico e finisce con la pandemia. E in mezzo scorre il nostro tempo, i suoi turisti, i suoi abitatori, sotto il dominio del caso e del nulla. L'originalità del suo sguardo è che vede l'attualità non con l'occhio dello storico o del cronista, del sociologo o del letterato e nemmeno del filosofo o del moralista, ma attraverso il paragone tra il visibile e l'invisibile, il sacro e il profano, il piano storico e il piano simbolico. Calasso coglie il nesso tra Darwin e Hitler e poi tra Stalin e Hitler, critica la superstizione dello scientismo e il bisogno di sentirsi buoni a costo di negare la realtà e la spiritualità e si sporgia infine a sognare una società contemplativa fondata sulla reverenza per l'ignoto. Perdiamo il cielo sulla nostra testa e perdiamo la terra sotto i nostri piedi. E lui alla fine scrive «La sensazione più precisa e più acuta per chi vive in questo momento è di non sapere dove ogni giorno sta mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le prospettive oscillano. Allora si avverte che ci si trova nell'innominabile attuale. L'ignoto che appare e il noto che scompare».